Il 10 dicembre è diventato l'appuntamento fisso di tutto il movimento Slow Food e di Terra Madre per celebrare la nascita della nostra associazione. In ogni angolo del mondo si celebra la biodiversità, il lavoro straordinario che le nostre comunità sviluppano in ogni continente, un lavoro di attenzione verso i più deboli, un lavoro di attenzione verso la difesa del patrimonio agroalimentare, un lavoro che in questi anni è cresciuto attraverso la straordinaria rete di Terra Madre. Questa celebrazione è un qualcosa di personale che ognuno può costruire in base alla realtà in cui vive, in base alla propria comunità. Voglio quindi sollecitare tutti a non mancare a questo appuntamento, a testimoniare in ogni angolo del mondo, questa nostra festa, questa nostra celebrazione. Ed è la celebrazione della diversità, ed è la celebrazione della nostra filosofia del cibo buono, pulito e giusto. E deve anche essere l'occasione in cui tutti noi riflettiamo che si può realizzare questo abbuttamento, sostenendo una campagna per dare risorse anche alla nostra associazione. L'operazione Difendi il futuro è il metodo con cui noi ci autofinanziamo, è il metodo che ci permette di essere liberi, di avere le nostre idee, di sostenerle e di diffonderle per il mondo.